Oh, ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video, come in realtà vi avevo già spoilerato nell'ultimo contenuto che è uscito esattamente ieri, oggi nuovo unboxing per il canale, sarà un piccolo gadget che ci servirà proprio per migliorare poi il contenuto in sé su YouTube, adesso vi spiego meglio, ma prima la sigla. Per fare prima facciamo questo immediatamente così che abbiamo già aperto tutto, vediamo un po' se hanno sbagliato il pacco, speriamo di no, così che vi dico finalmente cosa stavo aspettando, vediamo un po', ed eccolo. Si tratta di un faretto che andrà a migliorare quindi la qualità del video in sé, come vi dicevo in realtà nell'introduzione, essendo che quando ho aperto il pacco Amazon si è distrutta anche questa plastichina, forse era meglio fare più attenzione, ma vabbè. Continuiamo a spellicolare, ok. Tra l'altro bellissimo perché uno era in offerta a Black Friday, quindi invece di pagarla tipo 60 euro l'ho pagata 50 o 47, non mi ricordo bene. E non è soltanto una luce che può solo illuminare, ma è RGB, quindi con diversi colori in poche parole. Ok, quindi andiamo ad aprire. Fa tipo come le scatole Apple che sono inapribili la prima volta. Ah, ho capito, non ho tolto questa parte qua. Ok, quindi togliamo questa parte e adesso dovrebbe funzionare immediatamente. Oh, ce l'abbiamo. Vabbè, come al solito, manuale di istruzioni che forse questa volta leggeremo perché effettivamente non ho mai comprato un faretto LED. Questo dovrebbe essere per posizionarlo sulla telecamera, speriamo funzioni. E poi, non so che cosa sia, ha semplicemente un sacchetto per portarselo appresso, anche se poi lo utilizzerò soltanto qui in studio, quindi. Ovviamente un cavetto, non so se per connetterlo all'alimentazione oppure per caricarlo, però scopriremo. E poi, signore e signori, ecco qua il pezzo forte che è il LED. E così è come si presenta, adesso però devo vedere come riesco ad accenderlo. Ok, come immaginavo ha una sua batteria, quindi per fortuna non è cablato. Adesso ci rimane soltanto che capire come connettere il tutto. Ok ragazzi, quindi ho un attimo consultato le istruzioni e per prima cosa ho visto che questo cosetto, che ti danno in confezione, serve da questa parte per collegarlo con ovviamente il faretto. E come dicevo prima, questa parte invece con la Nikon, in questo caso. Essendo però che ha la batteria, ovviamente dovrò prima caricarlo, quindi. Ok, quindi una volta tolto questo cosetto, bisogna connetterlo con questo cavo micro USB o USB-C, non ho capito molto bene, e poi l'altra parte USB-A con l'alimentazione. Mentre poi queste due rotelline qua in fondo dovrebbero essere utilizzate successivamente per regolare la luminosità. Dovrete quindi installare quella parte su questo foro ovviamente, e poi la parte restante che sia su Canon o Nikon, c'è sempre questa parte qui. Una volta quindi inserito il cavo nel caricatore, non ci resta che aspettare, quindi direi di lasciarlo qua nell'angolino. Adesso però fatemi mettere a posto questo macello.